Quasi 11.500 prodotti cosmetici sequestrati e 8 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Castrovillari sono il risultato di una complessa attività svolta dai finanziari del Comando Provinciale di Cosenza nell'ambito del contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell'Unione Europea. L'attività di indagine condotta dai militari del gruppo di Siebari trae origine dai controlli presso molteplici esercizi commerciali, soprattutto in una catena di negozi di cosmetici e due centri di distribuzione dell'Alto Ionio Cosentino. Le fiamme gialle hanno scoperto sugli scaffali migliaia di articoli contenenti la sostanza denominata Lilial, conosciuta anche come Butilfenilmetipropinal, bandita dal regolamento dell'Unione Europea a partire dal 1 marzo del 2022. Secondo il Comitato per la Valutazione dei Rischi dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, questa molecola rientra tra quelle sostanze ritenute cancerogene e tossiche per la fertilità, rappresentando un rischio grave per la salute dei consumatori. Tra i prodotti sequestrati, profumi, bagnoschiuma, shampoo e prodotti per capelli, tutti pronti per essere acquistati. In alcuni casi è anche stato accertato che era stata apposta sull'etichetta originale una seconda etichetta, che non riportava gli ingredienti, soprattutto la molecola vietata, in modo da rendere vendibile un prodotto invece vietato. Grazie per la visione!